Ciao e bentornato Oggi volevo farti vedere come poter rendere le schermata di Google nella così tanta amata dark mode Ebbene però utilizzando Safari dell'iPhone Ebbene molte persone utilizzano Safari, appunto il browser integrato dell'Apple su iPhone oppure iPad eccetera Per poter quindi navigare e cercare le cose Ovviamente sul motore di ricerca sicuramente più conosciuto e più utilizzato al mondo E vediamo com'è semplice poter andare così ad richiamare quella che è la dark mode nella schermata di Google Perché nonostante noi andiamo ad inserire quello che è il tema, la dark mode nel sistema di iOS Comunque quando noi effettuiamo una ricerca su Google effettivamente rimane bianco E quindi può disturbarci la vista se comunque teniamo tutto quanto in dark mode Oppure semplicemente per un nostro gusto E vediamo insieme come è semplice poterlo fare Allora, per prima cosa quindi ci dirigiamo su Safari E vediamo quindi la nostra schermata di Google che ci presenta quindi i fattori di ricerca Non ci basterà quindi che premere in alto sulla sinistra le lineette Uscirà questa schermata dove ci dirà appunto di scaricare l'applicazione eccetera eccetera E noi dobbiamo fare clic invece in questo caso su tema scuro Che vedete in questo caso è attivato su off Cliccandoci sopra vedete come per magia tutto quanto andrà a richiamarsi in nero E quindi manterrà sempre questa opzione attiva Nonostante che noi andiamo quindi a chiudere oppure a riaprire Safari oppure le varie pagine Come lo ha nella schermata iniziale ovviamente lo ha anche quando andiamo ad effettuare Vedete una qualsiasi ricerca Vediamo in questo caso la ricerca Tutte quante le pagine ovviamente della schermata di Google Sono tutte quante richiamate nella dark mode Spero che questo video ti sia stato utile Se ti fa piacere iscriviti al canale Metti mi piace con la campanellina E ci vediamo al prossimo video Ciao